Quante volte sentendo parlare di qualcuno che ha successo grazie al web ci siamo chiesti Ma perché proprio tu? Io sono un videomaker e da 15 anni faccio video su YouTube Il mio progetto è di andare a bussare a casa di YouTuber, streamer e influencer di tutta Italia per trovare la risposta a questa domanda Perché proprio tu? Ah, un set Lego! Tu con questi pezzi devi costruire SEO Ok, bello! Come hai iniziato a disegnare? Eh, con la matita? Fateci sentire un bel casino per SEO! Tra i video più curiosi c'è quello di un giorno fumettista che si è inventato E abbiamo qui con noi il fumettista SEO, benvenuto Ciao, conosco SEO? Faccio delle cose buffe su... Ciao, sono SEO! Ciao, tu il netto! Prontone! Sto cercando qualcosa da dare da mangiare a mio figlio per pranzo C'è qualcosa di già pronto? Sennò li ho faccio io Come fai a scherzare prima delle sette e mezza del mattino? Usare l'umorismo per vedere la vita Per raccontarla Per fare arte E' comunque una cosa che di base mi piace fare Ma la uso anche un po' come meccanismo di difesa Mi viene in mente una striscia E devo... Mi vengo in mente delle altre strisce già collegate a quella E quindi devo scriverle tutte Perché sennò me le perdo Anche questa va bene Dov'è l'elicottero? L'elicottero è su Dopo andiamo a prenderlo Vuoi un pancake intanto? Siamo un po' in ritardo Ma ce la facciamo Per pranzo ti ho messo la pasta I legumi La ricotta E per merenda La mela e gli anacardi Cosa hai detto? Gli ho messo per pranzo la pasta di legumi e la ricotta E per pranzo la mela e gli anacardi Cosa hai detto? Mi sa che mi hai sentito Allora qua siamo a Villa Benier Dove all'interno ho il mio studio per ora Ciao sono Sio Faccio un sacco di cose Di solito quando la gente non mi chiama Sio Non mi giro È un po' un casino al momento Ma diciamo Qui c'è l'angolo Con le cose colorate Per fare tipo gli streaming su Twitch Qua c'è il mio manifesto di Luca Comics e lo Schwa Qui ci sono un sacco di fumetti miei E l'autografo di Toyota Ro Che non è l'autografo di Akira Toriyama Ma quasi E questa è la mia postazione per lavorare E adesso lavoriamo un po' E per Per accendere il computer bisogna fare così Le pizze sono buonissime L'ho già detto? Non ancora Questa è la prima volta in cui lo dico La prima di numerose volte in cui dico che la pizza è buona Sapevo che c'erano due cose che volevo fare nella vita Ed erano i fumetti e la musica Sono quattro Ma hai capito? Due così e due di backup Sono in trasloco Mi sto facendo uno studiolo a casa E avere un posto dove posso urlare e cantare E anche quello è fondamentale A un certo punto ho dovuto decidere Se voglio concretizzarlo Devo ovviamente buttare tutto me stesso Per la musica sono portato Per i fumetti no E ho scelto i fumetti ovviamente Perché era più difficile Le cose più difficili fanno più ridere E sono più divertenti E soprattutto quando riesci a fare una cosa più difficile È più bello In teoria Scriviamoci I post-it Allora devo pubblicare il video Quando riuscirò a festeggiare L'uscita del mio fumetto Te lo dirò Però per me festeggiare L'uscita del mio fumetto È ogni giorno che mangio il cibo Mangiare il cibo È già una cosa bellissima Poi importantissimo Mangiare Quindi il primo fumetto che hai letto? Vabbè Topolino Che avevo la casa piena di Topolini Ho imparato a leggere su Topolino E a un certo punto mia mamma mi ha regalato l'abbonamento È stato un bellissimo momento Tu esattamente che giorno sei nato? L'8 ottobre 88 Anche la mia data di nascita è stupidissima Il 9 ottobre 88 Usciva questo Topolino Che abbiamo preso Perché è il Topolino più vicino alla tua nascita Wow Grazie L'aereo fai da te Calendario della serie A Wow Come funziona la scrittura di un Topolino? Vi faccio vedere una sceneggiatura veloce Ti prego Questa è la prima che ho scritto Io sono un grande fan delle sceneggiature disegnate E quindi io faccio il fumetto sostanzialmente Ma Disegnandolo Per poi farlo ridisegnare A qualcuno di competente Tipo Silvia Ziche Ok ma quindi come è successo Che sei finito a scrivere per Topolino? Avevo fatto un'intervista In cui citavo a un certo punto La rivista Ridi Topolino Che si aveva dei fumetti Disney Ma era principalmente Infarcita di bagianate Scritte da Tito Faraci Io all'epoca andavo in ricerca di nuovi talenti Faccio lavoro di scouting Anche di tutor per i primi tempi Due persone che stimo molto Mi hanno parlato di CEO E la prima persona è Silvia Ziche E poi mio figlio Credo che fosse uscito Il primo numero del magazine de CEO Fa guarda che secondo me Assomiglia veramente tanto Alcune cose che facevi Poi arriva un'intervista Dove lui parla benissimo Di Ridi Topolino E di me Ho guardato su Twitter E ho scoperto Che lui mi seguiva E lui mi scrive su Twitter Ah quindi leggevi Ridi Topolino Oddio E lui mi ha risposto Oh Tito Con tre punti schermativi Che onore Sì lo leggevo E lo rileggo tuttora Ti andrebbe di scrivere per Topolino? Eh io dico Cosa? Cioè Rispondi sì Perché Cioè Non posso Assolutamente lasciare andare Quest'occasione Ma non penso di poter Scrivere per Topolino L'ho portato A scelgiare Le sue prime storie di Topolino E nel frattempo Siamo diventati anche molto amici E poi vabbè Cominciato tutto il resto Di una lunga e bellissima collaborazione Da vari punti di vista Simone Fammi sentire come leggi bene Vediamo Fammi sentire come leggi bene Diciamo che la mia più grande fortuna Nella vita È stata sapere Dall'età di 4-5 anni Che volevo fare i fumetti Punto Avrei trovato un modo Per farlo Non sapevo come E quindi è stata un po' La mia luce Che mi ha guidato Da sempre Perché ho detto Ah che bello Topolino Anch'io voglio fare questo Da piccolo mi autoproducevo i fumetti Quanto piccolo? Ero piccolo delle superiori E mi autoproducevo un fumetto Che si chiamava Tutto Scottex Lo vendevo per un euro Perché mi costava 50 centesimi fotocopiarlo Nella fotocopiatrice Della scuola 20 pagine Mi hanno fatti Tipo 6 numeri Li andavo a vendere Nelle classi Che cosa è successo? E' entrato Tutto serio E' fatto salve Avete dei fumetti Si è andato lì Nell'angolino Ha tirato fuori questo Quanto è? Ha pagato Ha fatto proprio Che cos'è? Sono io Ah Hai comprato un tuo? Si stesso Ha comprato Stesso Era a fine anni 2000 E io avevo già cominciato a pubblicare Autori che venivano dal web E tra questi c'era anche Sio All'epoca aveva 18 19 anni Era veramente Giovanissimo Si stava per diplomare E faceva questi disegni Bruttini Però i testi facevano more Realizzate Per cui un giorno L'ho incontrato a Lucca E gli ho chiesto Se voleva entrare in shock Lucio Stajan E' stata la prima persona Che ha creduto in me Vedendo nei miei fumetti Qualcosa Che non avevo nemmeno io visto Quindi è stata la prima persona Che mi ha pubblicato Nel 2008 Mi ha pubblicato Tutto Scottex 1 Ma questo è il primo In assoluto E la prima raccolta che abbiamo fatto Ottobre 2008 Ok Quindi aveva 20 anni Poi aveva Sio Tutti lo chiamavamo Scottex però A un certo punto mi fa luce E fuori Non mi chiamare Scottex Chiamami Sio Tipo qui quindi Ci sono proprio i suoi primissimi Sai che non ve li farà mai Pubblicare in video Secondo me no Secondo me no Poi vado all'università a Venezia Continuo a fare i fumetti Mentre studio giapponese Madonna Che amore corte Qui ho fatto un miliardo di esami Lì a sinistra C'è C'è un'aula Dove facevo la maggior parte Le lezioni di elettorato Di giapponese Quanto è che non venivi in questo luogo? Almeno dieci anni Tu e Sio Come vi siete conosciuti? Devo Devo È l'occasione giusta Per mettere fino a questa menzogna Che va avanti da anni Perché io Sio Cioè non lo posso sopportare Lo detesto È una delle persone Veramente che mi stanno più sulle palle Tra tutte le persone che conosco Niente raga Se volete chiudiamo qua la cosa Perché Andata Non ho altro da aggiungere Grazie mille Primo giorno di università Che tra l'altro C'è Proprio la dimostrazione Del fatto che non so giudicare le persone Perché Sai Classico corso universitario Primo giorno Ci sono un miliardo e mezzo di iscritti Tu dici Beh mi siedo di franco a qualcuno Che sembra sai Affidabile Magari una persona seria Ho visto sì Ho detto chiaramente Lui è una persona seria Sono un idiota Io sono arrivato a Venezia A studiare lingue orientali E ho conosciuto l'orro Ad un esame Al primo esame di giapponese Dopodiché Due giorni dopo Lui mi ha detto Ti presento un amico Sio E boh Triunvirato Formato per sempre Le Zattere Cioè la biblioteca delle Zattere È l'unica biblioteca Dove io abbia studiato le cose Quindi venivo sempre qua Da Mestre Venivo qua Che è l'unico posto dove riuscivo a studiare Ai tempi dell'università Noi abbiamo iniziato a fare Il pubo in primo piano Che era il nostro programma in radio In Radio Caffoscari Perché io lavoravo in Radio Caffoscari Questo è un pezzettino di Radio Caffoscari Una volta sola abbiamo fatto Una puntata del pubo in primo piano Da qua Le ho provate tutte in realtà Prima di Youtube Cioè io volevo fare i fumetti O volevo fare un lavoro creativo Con i miei fumetti Con le mie storie Ho provato a fare un podcast da solo Che non sentirete mai Non cercatelo Ho fatto un blog Che non troverete mai Di racconti e poesie Ho provato a fare A scrivere prosa Ho provato a fare i fumetti Nel blog Quindi stavo provando A tirare un sacco di spaghetti sul muro E vedere cosa Cosa si appiccicava Per poi Riuscire a lavorarci A creare una base Su cui costruire Sono il famoso Elder Ring Dopo l'università Cosa è successo? Insieme avevamo fatto Tre mesi a Sapporo Durante l'ultimo semestre Del terzo anno Per uno scambio Che puoi fare con l'università Io ero andato in Giappone Per imparare il giapponese Se riesco a stare in Giappone Al posto di pagare i soldi Per fare l'università Mi pagheranno Per fare dei lavori E nel frattempo Imparerò il giapponese Per osmosi Come minimo Abbiamo visto insieme Due mesi Dopodiché io sono tornato in Italia E ci siamo scambiati dei lavori Perché insegnavamo Inglese, italiano In varie scuole Lavoravo con tutte le età Ai bambini e alla bambina Facevo fare dei fumetti Perché i fumetti sono belli E perché comunque in Giappone Il linguaggio del fumetto È abbastanza universale Cioè se io ti chiedessi Di insegnarmi qualcosa Con un fumetto Con un cartone Salve sono la signora Barangio Giangela E oggi impareremo Come si fa il tiramisù Partiamo dalla base Che cos'è il tiramisù? Boh Nessuno lo sa La vera domanda è Come si fa? Ma la vera vera domanda È perché si fa? Ma la vera 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 domanda È quando si fa Sol, re, do, la Il tiramisù è formato Da due parti La parte superiore La parte giuperiore E la parte in mezzo Ingredienti Carote Un milione Patate Un miliardo Rami Tre Tea One cup Procedimenti Prendete i rami Metteteli su Il tea Ecco preparato Il tea Rami Su A un certo punto Dico Uffa il Giappone Lavoro tutto il tempo Mi sveglio prestissimo Per fare i fumetti Ma non me ne sono mai andato Da Sapporo Stavo a Sapporo A lavorare Quindi chiamo Nick E dico Nick Scusa Facciamo il giro del Giappone In bicicletta Per piacere Come è arrivato Il successo Ma sai che credo E qua potrei sbagliare Comunque con i video su Youtube Cioè nel senso C'era stato quel periodo Che aveva iniziato a fare Tipo le traduzioni Delle canzoni Fatti con Google Translate E io ho appena incontrato E questo è pazzo Ma qui è il mio numero Così mi chiamano forse È difficile guardare a destra A te piccola Allora il mio canale Scottex Di Youtube L'ho aperto nel 2006 Ma ho iniziato a pubblicarci roba Nel 2010 Cioè con i maybe E adesso c'ha 2,2 milioni di iscritti Che non è un numero Ma col fatto che lui fosse in Giappone Non si capiva il suo successo Io neanche Io forse neanche lo sapevo Che fosse aperto il canale Quello lo sapevo Ma non ci badavo molto Per cui arriva settembre C'è il Treviso Comic Book Festival E lui intasa La fiera Basta Vado a fare Un giro in Giappone Ah no Scherzavo Invece Lo faccio In Italia E poi Visto che ho sempre voluto Vedere la tour Eiffel Vado Vado anche a Treviso Il 27-28 Al Treviso Comic Book Festival Ehi Sio Come è? Ah no Praticamente hanno dovuto Prendere la sua schivania Metterla fuori C'è la coda Lungo il corso di Treviso Che arrivava Insomma dove L'hanno dovuto Poi metterla fuori Perché stava bloccando tutto Passi dalla persona Che conosci Nel quotidiano Normalissimo Al momento in cui Che ne so C'è il ragazzino Che lo ferma per strada E dice Scusa ma sei Sio? E tu rimani un attimo Interdetto E dici Aspetta un attimo Ma sta succedendo davvero Questa cosa? Questi numeri nella mia testa Siccome non hanno senso Per me Sono una cosa binaria Posso fare questo lavoro? Sì No Al momento sono su Sì Fine Io non mi godo Le cose Che sto facendo Quando è fatta una Sto già pensando A quella dopo E quindi non è che Mi metto mai a pensare Ah Che bel fumetto Che ho fatto Scott Magazine 30 No Sto solo pensando Oddio La scadenza per il 31 È Fra un mese Non ho mai festeggiato Neanche Quando ho scritto Per Topolino Cioè Che tra l'altro È un sogno Che non mi permettevo Nemmeno di avere Scrivere per Topolino Dico Io faccio i miei fumetti Ma figurati Se riesco a fare Fumetti per Topolino E invece ha fatto anche Sceneggiature per Topolino Fare video su YouTube Ma poi essere un fumettista Dal mondo fumetto classico Come era vista? Per loro Sì Io non ero un fumettista C'è il disegno canonico Deve essere fatto In certa maniera Lui fa cose molto demenziali C'è un aneddoto Nel mondo dell'editoria I duratori Che vanno Vanno dall'editore E l'editore gli dice Voi dovete farmi Il nuovo Topolino Come se fai Il nuovo Topolino Fosse una cosa così Sì Io per certi versi Il nuovo Topolino Perché a quel pubblico Anzi probabilmente I bambini Le scuole elementari Medie Conosco più lui Forse Che Topolino Che famo? Famolo Ti do il magico cofanetto Ma che bello È un cofanetto Di set lego Cos'è un set lego? Tu Intanto Spacchetta Ah Un set lego Allora Quelli sono 50 pezzi lego Il volante mi fa già ridere 50 E tu con questi pezzi Devi costruire Sio Ok Bello Posso? Vai Allora Posso metterci un po' di tempo? Se si tutto Un po' di tempo necessario Two days later Tutti i pezzi che voglio Ma io li uso tutti raga E questa è la cosa che non sapete Senti ma la persona che ti conosce meglio al mondo Secondo te chi è? Beh Marta Nell'era in cui si fanno storie Instagram ogni istante Tu invece non hai mai messo la tua famiglia? No La mia famiglia sulle storie Instagram le metto sulle storie quelle verdi Che le possono vedere 12 persone Ma quindi secondo te un modo per avere Marta in questo documentario lo troviamo? Beh Intanto glielo chiediamo E poi se dice di sì Ciao sono Marta e sono la compagna di Sio Ti senti a tuo agio ad essere intervistata? Insomma E come ci si sente ad essere un disegno? Beh molto leggeri molto bene Come e quando vi siete conosciuti? Allora ci siamo incontrati vi direi la prima volta alla scuola materna Però avevamo tre anni quindi non è che mi ricordo il primo incontro Ma lui disegnava all'asilo? Mi ricordo più alle superiori che ha iniziato Eravamo fuori con gli amici a raccontarci delle cose, a decidere cosa fare E lui invece che partecipare creava le strisce su quello che stava succedendo Il suo contributo era ecco questo è quello che avete detto fino adesso Chi dice che fa cose semplici non le sta guardando bene Perché in realtà fa cose molto articolate e molto complesse Ripeto che hanno tantissime sfaccettature Ci sono dei messaggi che lancia con forza e anche con grandissimo coraggio Che passano Che sono messaggi che riguardano l'accettazione degli altri Sempre temi ecologici, tantissime tematiche che lui sente con grande sincerità e con grande forza E' sempre stata una palla gigantesca di entusiasmo, di presa bene, di rumore, di colori Ci sono stati dei momenti tipo di difficoltà o momenti più bui? Beh sicuramente lui diciamo che di per sé è una persona entusiasta della vita e di tutto Però dall'altra parte ci sono anche i momenti di grande stress Negli anni in cui voleva fare il fumettista ma non riusciva Ecco ancora non aveva ancora trovato la strada lì Era molto insomma lavorava un sacco Erano anni tosti ecco dove si dava tanto da fare ma ancora non vedeva di poter fare questo lavoro qui nella vita Ecco adesso però l'ho sbilanciato troppo indietro Oh no sbilanciato in avanti Aspetta Questo sono io uguale E' riuscito in un momento di grandissima popolarità che poteva anche travolgerlo Nel senso più negativo è riuscito a non farsi travolgere Dal punto di vista umano lo dico come amico sta attraversando una bellissima fase Riesce a vivere molto bene il momento di genitorialità molto vicino ai suoi amici E a dei momenti anche di riflessione personale che si concede fa bene a concedersi Ve lo spiego? Ti prego Allora i denti ne ho già abbastanza quindi non ne ho messi Sono molto aggressivi non mi piaceva sono proprio denti Mentre tutto il resto è una cosa che non dovrebbe funzionare ma funziona E tipo ogni parte non viene utilizzata come dovresti Tipo il volante è dietro e l'elica è bloccata da tutte queste cose E pensi che questo sia E davanti poi c'è un pezzo illegale Cioè messo verticale perché non si può Sarebbe una costruzione illegale dell'elego E questo è un accrocchio che esiste solo per tenere in piedi tutto il resto E questo è un pezzo che non dovrebbe assolutamente stare così ma io sono molto molto determinato E ce l'ho fatto stare lo stesso Lui come papà com'è? E beh è molto presente È quella parte libera fuori dagli schemi Lui a livello educativo di creatività Inventano storie assieme Si leggono topolino stanno lì anche un'ora e mezza Lui disegna per insegnare delle cose a vostro figlio? Disegna su commissione per nostro figlio Perché ogni tanto gli chiede i disegni delle macchine delle cose Che tra l'altro è l'unico lavoro su commissione che fa Perché tutto il resto invece si guarda bene da prendere lavori su commissione Giustamente insomma Lui è un padre di famiglia È terrificante questa cosa Cioè è veramente assurda Eppure sì Cioè quello maturo di Ne3 è lui E è incredibile come riesca a conciliare questa cosa Non ha perso quella scintilla Di essere fondamentalmente un imbecille Che non è anche quella Non è una cosa scontata E non so onestamente come faccia Si parte da una base, no? Deve esserci una base di qualcosa nella vita Da cui partire, su cui poggiarsi Di relazioni, di persone Di cose che sai, di cose che studi E poi ho visto che era asimmetrico Io sono storto Sono storto anche nella vita in generale Quindi mi sembra appropriato Che faccio delle cose per bilanciarmi E in qualche modo sto in piedi Ma invece l'elica sopra Disfunzionale Che non gira Per nessun motivo? È quello che la gente che si aspetta da te e tu faccia, no? Ok Che l'elica giri Però è bella anche così l'elica Non deve per forza girare E poi ce n'è un'altra Cioè proprio è un... C'è un'altra elica sull'elica Questa questione che sta in piedi Ma... Cioè proprio basta un soffio e viene giù Tu ti senti un po' così o è... Però guarda cosa succede quando lo soffio e viene giù Non si rompe Te la sei rischiata? Sì ma... È così la mia vita Ti faccio l'ultima domanda Che poi è quella per cui sono venuto qui Perché proprio tu? In parte Se ignoriamo la fortuna Il privilegio mio di venire da una famiglia Emozionalmente stabile Economicamente anche E il fatto di essere un maschio cis Anche questo mi ha dato sicuramente un aiuto In più c'è la fortuna Ed è anche quella La parte che sono riuscito io a fare la differenza È stata il mio superpotere La determinazione totale di dire Lavoro un miliardo di ore Io prima o poi fumetti, cartoni La musica matta La faccio Scolando la pasta L'acqua è tutta... È tutti i privilegi che arrivano dal mondo Dalla mia situazione La pasta è quello che ci ho messo io Anche la pasta è buona Non solo la pizza Vivere qualche giorno con Sio Mi ha fatto capire Perché come personaggio Mi ha sempre attirato Lui è proprio un cartone animato La sua storia è quella un po' smielata Che a vederla Uno pensa che sia finta Perché tutto si incastra alla perfezione Stando gli intorno Ti viene voglia di fare due cose Credere nei tuoi sogni E mangiare la pizza E quindi grazie Sio Sia per i carboidrati Che per i sogni Come vorresti che finisse questo documentario? E poi muore Ma poi è morto davvero Allora 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 Grazie a tutti.